ingredienti dosi per quattro persone 400 grammi di mezze penne 3 melanzane pomodori pelati origano uno spicchio d'aglio mezza cipolla pecorino dolce olio d'oliva pepe sale preparazione lavare le melanzane tagliarle a fettine e metterle su un tagliere cospargere di sale le melanzane affinché perdano il liquido amaro preparare il sugo soffriggendo aglio e cipolla tritata in olio d'oliva e unire i pomodori pelati far cuocere 20 minuti salare pepare e insaporire con l'origano asciugare accuratamente la metà delle fette di melanzane e friggerle in una padella lessare le mezze penne al dente scolarle e condirle con il sugo di pomodoro e le melanzane fritte con le restanti melanzane crude foderare una pirofila riempire la pirofila con la pasta e metterla in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti sformare il cesto su un piatto e servire il piatto è pronto buon appetito